Ovviamente siamo in estate, ovviamente c'è voglia di mare, ovviamente si passano le giornate e le domeniche in riva al mare. Ma quanto costa una giornata al mare? E soprattutto si parla tanto di portare il panino in spiaggia, di portare, come i salentini dicono, lo stanato di pasta al forno. Ma si può portare in spiaggia sì o no? Perché tante sono le versioni. Signor Mancarella, si può venire e portare il proprio panino da casa e poi magari consumare qui da lei il caffè? Ma io sono libera di portare qualcosa da casa e mangiarla qui? Sì, si può tranquillamente anche perché l'ordinanza demaniale non lo vieta, perché l'unica legge che insiste sul demanio sono le ordinanze demaniali. E non la menziona questo diviedo di introdurre alimenti e bevande nei lidi. Quindi si può portare, però un po' di decoro ci vuole. Ovvio che a un lido a quattro stelle vedere un tegame in spiaggia di lasagna non è tanto bello, però il panino, la frutta, anche l'acqua portano nelle borsone e nei borsoni si può fare tranquillamente. E qualche proprietario di stabilimento balneare può vietare di introdurre la bottiglietta d'acqua, la bottiglietta magari di bevanda o il panino? Non può vietare, non può vietare perché non lo menziona l'ordinanza demaniale. La legge, i nostri comandamenti sono scritti sull'ordinanza demaniale e non viene menzionato il diviedo di introdurre alimenti e bevande nel lido. E per quest'estate 2022 qual è la bevanda più gettonata, quello che sarà il mass da lettino? Il nostro classico caffè in ghiaccio, che noi tutti lo chiamano caffè alla leccese, però c'è il caffè in ghiaccio con la musso di caffè o il caffè in ghiaccio con il limone che sta andando tantissimo. È un'ottima bevanda dissetante.